L'organizzatore della manifestazione di oggi è arrivato il primo gruppo dall'Abrianza stamani che è arrivato qualche ora fa, adesso stiamo arrivando in organizzatori, più avanti saranno previsti migliaia di persone, noi siamo qui per chiedere di poter aprire perché i ristori che sono stati dati dal governo centrale di Roma e i pochi soldi che sono arrivati dalla regione Lombardia non bastano neanche per pagare la rata d'affitto di un mese di qualunque tipo di attività. Il Presidente Senna e l'assessore regionale alle attività produttive Guido Guidesi per parlare con loro e per dare la solidarietà nostra perché questa è una protesta sacrosanta e noi siamo al loro fianco, tant'è che settimana scorsa la regione Lombardia ha proprio presentato un ricorso contro l'ultima decisione del governo di mettere la Lombardia in zona rossa. Noi facciamo un passo anche in più nel senso che queste categorie e queste attività che in passato, nei mesi scorsi, avevano dei precisi protocolli sanitari per poter aprire, noi richiediamo al governo che questi protocolli vengano nuovamente messi in campo per permettere a queste persone di lavorare. Grazie. 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 Grazie.